rispettando la tradizione si è oggi bruciata la befana a piazzola sul brenta il rogo tenutosi in piazza camerini e preceduto da uno spettacolo pirotecnico ha richiamato circa 300 persone che hanno salutato l'inverno e accolto la primavera con questo falò offerti poi dalla prologo cioccolata calda vin brulee e dolcetti per festeggiare in allegria questo momento così sentito soprattutto dalle generazioni passate l'azione che si tramanda nel tempo da almeno per noi che abbiamo superato i 50 anni l'abbiamo sempre vissuta i primi giorni del mese di marzo ricordo o quantomeno festeggiare l'arrivo della primavera di sentirsi liberi venire qui in piazza giocare scherzare per ritrovarci tutti quanti assieme vogliamo così come spinta ripetere ogni anno questa iniziativa cercando di rianimare questo luogo e allontanare una volta era un luogo dove si trovava tutti quanti a piedi si ricorreva si giocava a calcio si si stava a chiacchierare adesso le auto hanno preso il sopravento e quindi riportare qui tante persone così a piedi che stanno ferme dialogano i bambini è un motivo così per rinverdire questa tradizione che speriamo un prossimo tema del tempo potete trovare il video completo della manifestazione su swishember channel premium sul nostro account di youtube e i contenuti extra con la fotogallery sul nostro sito internet o nelle nostre pagine social swishember channel news piazzola sul brenta